Era occupata da oltre due anni da un gruppo di anarchici, la casa cantoniera di Ulz è stata sgomberata questa mattina, era diventato un ricovero per migranti. È stata sgomberata questa mattina, la casa cantoniera di Ulz era occupata da due anni da un gruppo di anarchici che l'avevano trasformata in un ricovero per i migranti. Per quei fatti 18 rinvii a giudizio. Sporcizia, degrado, spazi ristretti. Vivevano qui una cinquantina di migranti, fra loro donne e minorenni, pronti nei prossimi giorni a passare il confine. A presidio del rifugio autogestito per stranieri diretti in Francia, nella casa cantoniera di Ulz, occupata da anni, c'erano 13 anarchici denunciati dalla Digos nello sgombero coordinato dalla questura di Torino, cominciato con le prime luci dell'alba. In campo diverse forze dell'ordine. A loro arrivo gli occupanti si sono barricati, per questo è stato necessario forzare l'ingresso. L'operazione si è svolta comunque senza scontri. I migranti, magrebini, afghani e pakistani, sono stati accompagnati in strutture sicure della zona. In queste ore vengono sottoposti a tampone e controlli sanitari. Fra gli anarchici sono stati identificati dei francesi, un irladdese e poi un tedesco, un danese e due britannici. La casa cantoniera era stata occupata nel 2018 e ribattezzata Chez Gesoux nel contesto delle proteste contro le politiche sull'immigrazione dell'allora ministro dell'interno Salvini e dei respingimenti da parte francese dei tanti migranti che cercavano di attraversare illegalmente il confine fra Piemonte e Francia. Per quei fatti è terminata con 18 rinvii a giudizio a Torino l'udienza preliminare del processo che si aprirà il 5 ottobre. Le accuse per un gruppo di anarchici e antagonisti sono violazione di domicilio per i locali di una chiesa Clavier, trasformati anche quelli nel rifugio autogestito Chez Gesoux, e per invasione di edifici nella casa cantoniera Ux. Le indagini furono svolte dai carabinieri, un diciannovesimo imputato ha chiesto la messa alla prova.